Siamo vittime di un accanimento mediatico senza precedenti. Abbiamo taciuto per troppo tempo, ma ora è arrivato il momento di dire basta. Fino ad oggi non abbiamo fatto polemiche perché c'è un'indagine in corso, ma abbiamo fiducia negli inquirenti e attendiamo fiduciosi l'esito. Ma abbiamo sentito troppe cose non vere che non possiamo più accettare. Marco Sciarra, presidente della Iniziativa Immobiliari Abruzzesi, passa al contrattacco dopo le ultime vicende che hanno riguardato il progetto della City. Penso che sia stato un atto doveroso da parte mia perché dobbiamo tutelare la nostra immagine, la nostra integrità, perché siamo degli imprenditori di Pescara, seri, che vengono da due o tre generazioni che abbiamo avuto dal territorio, ma abbiamo anche dato tanto. Adesso non siamo più disposti a sopportare questi attacchi mediatici che ormai negli ultimi giorni sono diventati insostenibili. Siamo stati in silenzio fino ad ora, giustamente attendiamo fiduciosi l'esito delle indagini sulle quali non vogliamo assolutamente intervenire, però riteniamo che sia una cosa inaccettabile subire questi attacchi. Un progetto a ribadito Sciarra in regola e che segue tutte le procedure di legge. La City sarebbe conveniente per la regione Abruzzo con un'unica sede e risparmi nei pagamenti degli affitti e anche per la città di Pescara con la costruzione di parcheggi di scambio per 700 posti. Abbiamo un vantaggio di avere una sede unica a Pescara con un risparmio di spese in termini relativi, chiaramente non assoluti, con un parcheggio di scambio come dice lei che potrebbe essere sicuramente una valvola di sfogo per Pescara visto che oggi si parla tanto di inquinamento e quindi a costo zero per l'amministrazione. Questa potrebbe essere un'opportunità che non ritornerà più. Se così deve essere vuol dire torneremo al vecchio progetto e ripeto noi abbiamo tutte le autorizzazioni, abbiamo iniziato un ITER nel 2006, abbiamo un permesso di costruire nel 2011 e quindi se non si dovesse fare la regione torneremo al progetto originale. Questi soci che sono presenti con me nella iniziativa immobile abruzzesi hanno messo di propria tasca 11 milioni di euro e hanno contratto un mutuo come si fa sempre per la realizzazione di questo intervento che ad oggi è stato erogato per 13 milioni e 800 mila euro. Se questa è una situazione di default di una società ditemelo voi.